Tre volti nuovi e un rimescolamento delle deleghe, si conclude così il lungo e travagliato confronto tra il sindaco di Barletta Pasquale Cascella e le forze politiche della sua maggioranza per arrivare alla definizione della nuova giunta comunale che avrà il compito di portare a termine il programma amministrativo nella seconda parte della consigliatura. Ieri pomeriggio è stato presentato in conferenza stampa il nuovo esecutivo. Aspetto come sempre quella linfa della novità, quell'impegno che in qualche modo rivitalizza e rigenera un impegno che è già stato particolarmente presente e pressante nella prima parte della consigliatura. Tra i nuovi ingressi quello di Maria Antonietta Di Matteo, espressione del Partito Democratico con delega ai lavori pubblici e alle manutenzioni, di Vincenza Di Maggio, indicazione di iniziativa democratica con deleghe all'istruzione, sport e politiche giovanili, di Michele Lasala, espressione del Movimento La Puglia in più a cui andrà l'assessorato alla polizia locale e alla mobilità. Vengono riconfermati dal Partito Democratico Vittorio Pansini al bilancio, patrimonio, società partecipate, gare e contratti e Antonio Di Vincenzo che dalle attività produttive passa all'ambiente. Cambio di delega anche per Marcello La Notte, espressione di scelta civica che diventa il nuovo assessore ai servizi sociali. La buona politica riconferma Giuseppe Gammarrota che dalle manutenzioni passa ad attività produttive, turismo, demanio marittimo e smart city. Rimane in giunta anche l'assessore all'urbanistica, Zurrapelle. Per quanto riguarda la delega alla cultura, il sindaco è ancora alla ricerca del profilo più idoneo che possa farsene carico e per il momento rimarrà nella sua disponibilità. Lasciano l'esecutivo Irene Pisicchio, Tonino Rizzi e Annetta Franca Bandiera, ma quest'ultima entrerà in Consiglio Comunale come prima dei non eletti nella lista di Sinistra Unita prendendo il posto del dimissionario La Sala. Il vice sindaco sarà indicato a rotazione in modo da non scontentare nessuna forza politica e a ricoprirne per primo la carica sarà Antonio Di Vincenzo. Chiusa la disputa sulla ridefinizione della giunta, il sindaco Cascella toccherà ora capire su quali numeri in Consiglio Comunale potrà contare per il proseguimento del mandato dopo l'abbandono della maggioranza da parte dei consiglieri Mazzarisi e Calabrese della lista del sindaco e dei consiglieri Campese e Doronzo di Sinistra Unita. I socialisti hanno annunciato che rimarranno all'opposizione, ma Cascella è fiducioso che il centrosinistra possa ritrovare la compattezza perduta. Questo confronto è utile, questo confronto c'è stato, continuerà a esserci alla luce del sole in Consiglio Comunale davanti al documento unico di programmazione. Io sono convinto che potrà dare dei risultati importanti nella prospettiva. La prospettiva sarà quella di costruire un'alleanza di centrosinistra solida, aperta, larga, ben collegata con la città per le prossime elezioni amministrative che la città dovrà affrontare.